Quindi si stima che oggi... Domenico Bocchini, 37 anni, di Torino di Sangro, è il vincitore della tredicesima edizione di Start Impresa, il corso gratuito di formazione specialistica per lo sviluppo della nuova imprenditoria promosso dalla sezione Servizi Innovativi di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, che premia le migliori idee e offre la possibilità di sviluppare il proprio progetto d'impresa. La giuria ha valutato i lavori di cinque finalisti, gli altri sono Valentina Candeloro, Francesco Dorio, Alberto Fontana e Sebastian Lazzaro. Il progetto vincente, denominato Top Lombrico, lavorerà nel mercato dei fertilizzanti naturali. Sul senso dell'iniziativa sentiamo Paolo Campana, referente Start Impresa. Diciamo che nella nostra lunga storia più di 50 aziende sono state create da persone che hanno partecipato ai corsi di Start Impresa. L'azienda vive di tre cose, l'imprenditore vive di tre cose, innovare, rischiare e decidere. Questi sono i punti base e mettendo insieme questi aspetti si può avere successo o meno, se non lo si riesce a mettere insieme. Ma ora cosa accadrà al progetto vincitore? Ancora Campana. Avrà a disposizione un piccolo premio in danaro di 2.000 euro offerto dal main sponsor, che è la società Project, ma questo è il meno. La cosa importante è che avrà la possibilità di interloquire in maniera intensa con società di venture capital e di investimento, che valuteranno il loro progetto e quindi se lo riterranno valido potranno aiutare questa azienda a crescere.